Ale, 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 forza Cagliari! Ciao, sono Samuel Loddo, gioco per la squadra Barrari, oratorio Santa Lucia. Il calcio per me è un divertimento, però è anche un gioco di squadra e conoscere nuove avventure. Se il segno esulta così, non ti capita sempre e ti può capitare solo una volta. Io sono Vittorio, ho 11 anni. Per me il calcio è un gioco, però è anche un gioco dove bisogna mettere il cervello e il coraggio e la grinta per giocare. C'è non litigare, non avere discussioni tra di noi, giocare di squadra quando giochiamo in campo, il divertimento. Tu devi tirare di là, l'angolo, l'angolo o quello di sinistra. Il tuo riferimento è questo. Andando a calcio fai amicizie più grasse, ti aiuta a ragionare nelle azioni che fai. Tu devi continuare, devi immaginare che tu la calci così. E la devi colpire con questo. Ok? Tutto fatto. Metti, io vado a Cagliari e non conosco nessuno e faccio amicizia, amicizia. C'è che anche quando, a certe volte, quando ci succede qualcosa di brutto, noi siamo sempre felici. Perché per noi c'è l'importante giocare. Cagliari e non conosco nessuno e non conosco nessuno. E' un po' timido, però se potresti, quando vai a calcio, non puoi fare una nuova amicizia. C'era questo ragazzo un po' più grande che disturbava un altro bambino. Io poi mi sono messo in mezzo e gli ho detto di smetterla perché non era una cosa giusta. Il bullo mi ha detto anche a me qualche cosa brutta, però poi se n'è andato. Perché il bullo è una palla. Non è un po' più grande, non è un po' più grande.